Secondo te la tecnologia digitale e internet potrebbero rappresentare una soluzione vincente alla tua difficoltà a partecipare a delle lezioni di batteria? Credi che l'apprendimento online sia un sogno impossibile da realizzare? O che non possa sostituire nemmeno in parte una lezione reale? Ciao, sono Ruggero Pazzaglia, il creatore di Pocket Drum Booster e aiuto i batteristi ad arricchire e migliorare la loro performance guidandoli all'autoapprendimento. Se stai vivendo in una situazione svantaggiata ma vorresti a tutti i costi imparare a suonare la batteria perché è la tua passione, sappi che io ti capisco benissimo. Infatti io vengo da un paesino piccolissimo, molto lontano dalle grandi città dove hanno sede le grandi scuole o gli insegnanti più blasonati ma non mi sono arreso. Più di 30 anni fa ho dovuto fare armi e bagagli e trasferirmi a Milano per prendere la mia prima lezione di batteria. E tieni conto che ho dovuto aspettare il compimento del 19esimo anno per ovvi motivi. Puoi immaginare che tutto questo è costato tanto denaro e sacrificio alla mia famiglia e anche tanto tempo e impegno per me. Ma quello era il mio sogno. Ed allora mi è rimasto un tarlo in testa. Imparare a suonare uno strumento musicale andando a lezione dai migliori è solo una prerogativa di chi se lo può permettere soprattutto in termini economici. Avrai sentito tante volte questo discorso, vero? Ora voglio farti una domanda molto precisa. Pensi che per te non ci sia proprio più nessuna speranza? Perché magari vivi in una situazione di svantaggio che può essere magari legata alla posizione della tua città o perché magari non hai tempo perché vai a scuola o lavori a una famiglia o peggio ancora non puoi permetterti il trasferimento in una grande città. Beh, la mia ossessione per rimuovere questi ostacoli mi ha fatto vedere la soluzione vincente. Sì, ora posso proprio dirtelo. Ho costruito una scuola che puoi frequentare anche tu perché puoi completamente adattarla alle tue esigenze. Si chiama appunto Pocket Drum Booster. Questa è finalmente la nostra, mia e tua, scuola virtuale interattiva. Ora finalmente potrai realizzare il tuo sogno di imparare a suonare la batteria senza spostarti da casa tua. Oggi la tecnologia può finalmente portarti la scuola a casa tua. Ma voglio svelarti un altro segreto. Ma per questo è meglio che tu ti sieda perché quello che sto per dirti ti sconvolgerà. Il segreto che sto per svelarti riguarda il fatto che non solo Pocket Drum Booster viene a casa tua ma ti seguirà ovunque tu andrai. Sì, perché sarà sempre nella tua tasca. Ecco perché l'ho chiamata Pocket Drum Booster. Perché è proprio... Tascabile. Ora lascia che ti mostri cosa stiamo già facendo io e i tuoi colleghi. Guarda qua. Come vedi ora siamo entrati nell'area privata chiamata Pocket Drum Booster. Ecco cosa trovi all'interno. Trovi le lezioni di lettura ritmica che svolgiamo ogni mercoledì alle 19. Vedi? Queste sono le registrazioni delle puntate vecchie. 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4. Questa è una registrazione dell'ultima lezione che abbiamo fatto. Come vedi tutti possono interagire e partecipare. Guarda. E possiamo parlare fra di noi. Possiamo farci delle domande. Possiamo chiedere consigli. Possiamo interagire fra di noi. Perché tutti ci vediamo e ci ascoltiamo. Inoltre puoi anche vedere le lezioni di tecnica. I workout che stiamo già facendo. Siamo arrivati alla terza unit. E qui stiamo praticamente lavorando sulle nostre povere mani per farle andare sempre meglio. Vedi? Qui ci sono presenti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 persone. 8 con me. Qui in questa lezione che si tiene il giovedì sera alle 21.30 invece lavoriamo di brutto sullo sviluppo delle mani attraverso dei workout che trovi all'interno invece di TheDrumBooster.com Inoltre trovi ancora altri argomenti come esercizi di batteria Oppure dei resoconti del mio tour estivo del 2018 E poi qua ci sono altre aree che sto sviluppando ancora come vedi ma di queste te ne parlerò in futuro. Ora capisci cosa intendo quando parlo di interattività? Per cui torno a ripetere per partecipare alle lezioni di Pocket Drum Booster tutto ciò che ti serve è un paio di bacchette un pad e uno smartphone. Allora se non sei già svenuto unisciti a noi perché tutto questo è gratis. Sì lo so sono un pazzo. Per cui adesso devi fare una cosa molto semplice cliccare sull'invito che c'è qui sotto se sei su Facebook c'è il riquadrino con l'immagine dell'invito se stai guardando questo video da YouTube lo trovi nella descrizione poi segui le istruzioni che troverai nella mail che io ti invierò immediatamente e a questo punto potrai partecipare alle lezioni insieme a noi. Sì lo so cosa stai per dirmi mi vorresti dire ma se io non posso partecipare alle lezioni di mercoledì e giovedì allora ho lo stesso problema di una scuola reale. No perché ho la soluzione anche a questa tua obiezione. Infatti ciò che ti ho fatto vedere poco fa sono le registrazioni delle lezioni precedenti per cui accedendo alla tua area privata troverai sempre le registrazioni delle lezioni a cui non hai potuto partecipare per cui non te ne perderai nemmeno una te le potrai vedere e rivedere tutte le volte che vuoi e potrai anche scrivere sotto dei commenti e io ti risponderò nel più breve tempo possibile. Capisci la portata di ciò che ho costruito? Ora non si potrà più dire che la scuola di musica è una prerogativa solo di chi se lo può permettere perché questa parte di Pocket Drum Booster è gratis. Per concludere ti ricordo i due appuntamenti gratuiti il mercoledì alle 19 dove facciamo un'oretta di lettura ritmica base molto semplice ma molto importante altrimenti non potrai mai evolverti come batterista non potrai mai leggere nessun esercizio mentre il giovedì alle 21 e 30 ci troviamo per un'oretta di workout per quanto riguarda la tecnica delle mani. Vedi questo è l'inizio della nostra grande avventura perché il tuo sogno ma anche il mio finalmente si è avverato. E allora te lo dico un'ultima volta clicca qui sotto o nella descrizione del video e unisciti a noi. Se invece sei una persona timida e non vuoi venire in aula e farti vedere potrai sempre seguire la diretta come uditore da Facebook poi però nessun accesso alla registrazione. Decidi tu. Comunque ci vediamo in aula mercoledì alle 19 e giovedì alle 21 e 30. Un abbraccio da Ruggero. Ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie.